Ed ora passiamo al film che la giuria Opera Prima ha individuato tra gli esordi che abbiamo visto in questi giorni. Per la consegna del Leone del Futuro, premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, invito sul palco il presidente della giuria, Emir Kusturica. E i giurati Antonietta De Lillo, Hans Abri, Michael Werner, e Terence Nance. Lascio la parola a lei, presidente. Quando Alberto Barbera mi offerte di essere parte del giurio Opera Prima, mi sento come se il giuratore veniva tornato al posto in cui ha cominciato il crimine. Era in effetti 1981, quando questo premio si chiamato Opera Prima e Seconda. Quindi ho detto sì, perché sono il ragazzo che ha un pasto e il nuovo vennero ha un futuro. Quindi dobbiamo mettere l'unico insieme. Prima di te raccogli chi è il ragazzo, voglio che ti share con me la simpatia e le condolences con un uomo che ha fatto molta vita più facile e più bellissima, e che era un scrittore di due film che ho fatto, e molti altri. Il fuori fuori proprio prima del festival. Il suo nome è Gordan Mihic, e ha fatto un scrittore di due film, Black Cat, White Cat e Time of the Gypsy. Quindi dobbiamo mettere un grande applauso. Grazie molto. Opera Prima va a fare un grande applauso a 20. dal sudanese direttore Amjal Abu-Ala. Vorrei invitare anche Fiera De Tassi sul palco. Fiera De Tassi, direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davidi Donatello, a cui Aurelio De Laurentiis ha gentilmente chiesto di consegnare al vincitore due assegni del valore di 50.000 dollari l'uno. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 20 anni, e non ho capito se posso essere qui perché sono un paese che non ho cinema, perché siamo in un regime che non vogliono supportare cinema. Ho detto non, perché abbiamo fatto la revolutione e abbiamo fatto la rivoluzione, e siamo orgogliosi. E abbiamo iniziato a shooting queste film in Decembre, e proprio i primi giorni di la rivoluzione, è proprio una coincidenza, tutto ciò che va a explodere in questo paese insieme. Sono molto orgoglioso, voglio ringraziare i miei produttori, Aghno Dimock, Ingrid Lailhinkton, Hossam Ilwan, Michael Henrix, Hamad Hafzi, Mohammed Al-Umda, e Omar Al-Halla, e tutti quelli che davvero supportano. Voglio ringraziare i autori che, infatti, non potrebbero ricevere una visa di Sudano per arrivare qui. Mustafa Shahata, Isla Mubarak, e Bona Khaled, Mahmood, e Talal Afifi. Sono davvero orgoglioso. E voglio ringraziare i fondamentali, perché non abbiamo alcune di acqua in questo paese per il cinema, perché, sai, non c'è nessuno. Ora, con il nuovo governo, spero che tutto ci sarà meglio. Vorrei semplicemente dire al regista, al produttore, che il premio Opera Prima Luigi de Laurentiis consiste anche in 100.000 dollari divisi fra produttore e regista, ed è un premio che ha voluto Fim Mauro, assieme a Leone d'Oro per l'opera prima, proprio che si chiama anche Leone del futuro, e il futuro è pieno di incognite, ma anche di sorprese, di rinnovamento, di gioventù, e quindi noi ci crediamo molto, e è un'azione concreta. E quindi, prego, devo dirlo prima, ma... Ok, questo... Non ho capito, ma sembra che sia qualcosa di buono. Grazie. Anche voglio ringraziare i giudici. Sono molto felice di averlo da loro. E grazie per i giorni di Venezia per avermi qui. Sono davvero molto felice. Grazie, ragazzi. Grazie. Grazie a la giuria. Grazie a la giuria. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.